ai boschi del canada tantissimi auguri di buon natale per tutto isp e per i nostri follower chiamo simonetta montaguti in questo momento mi trovo qui a niole sun dal 79esimo parallelo nord come potete vedere siamo in piena notte polare auguro a tutti voi le vostre famiglie un sereno natale e un felice anno nuovo da francesco giacomo maurizio e viaggio buon natale dalla stazione mario zucchelli in antartida ciao buon natale merry christmas and a happy new year from the forest of canada to all of this and all our followers